Musica strumentale Dopo la tua esperienza in America quanto è rimasto di contaminazione napoletana? Credo una buona parte ci sia sempre perché anche se in maniera inconscia perché io in realtà diciamo che Napoli l'ho vissuta in quanto sono cresciuto qui, ho suonato qua ma principalmente ascolto la musica americana ma sicuramente c'è anche se senza lo stereotipo di pizza, mandolina eccetera ma diciamo con una cosa più, come dire, ancestrale potremmo dire Ma esiste ancora questa differenza tra la musica americana, la musica italiana, la musica napoletana? Credo che oggi non si possa parlare più di musica napoletana, italiana, americana, inglese, oggi la musica è una, siamo tutti contaminati e questo è il bello del mondo di oggi, credo che bisogna non perdere questa occasione Quali difficoltà e quali obiettivi con il tuo disco? Le difficoltà sono tante per la musica, il mio disco è stato autoprodotto da me per cui diciamo non c'è molto interesse per questa musica perché non c'è un giro di soldi dietro sappiamo che il mondo di oggi si muove tutto intorno a soldi per cui è uno sforzo notevole sia di promozione, potete immaginare quanto, che lavoro c'è dietro a questa cosa, solo lo sforzo mio e dei miei compagni di viaggio Stai già lavorando al prossimo disco? Sì, sto già lavorando al prossimo disco, i brani sono pronti, essendo stato lo sforzo produttivo notevole cerchiamo di lavorare un po' nella musica leggera, fare un po' di soldi e cercare di metterla nella musica che ci piace la musica che esprime quello che siamo poi noi autenticamente come musicisti più che come session man o turnisti diciamo perché tutti lavoriamo anche come turnisti perché si sa che bisogna anche mangiare Dove è possibile trovare il disco autoprodotto di Mimmo Langella? Allora il disco si può trovare sul mio sito www.mimmo-langella.it e su www.guitarnine.com che è un sito americano specializzato in musica per chitarra e vendendo su questo sito ho avuto la possibilità di vendere copie in Giappone, in Australia, in Inghilterra e questa è una grande cosa con internet per la musica doprodotta e questa è una grande cosa con internet per la musica